Torna la tensione tra i lavoratori della GESIP che ieri sono scesi nuovamente in piazza per chiedere certezze sul loro futuro. I dipendenti dell'azienda partecipata del Comune di Palermo, che dal 31 dicembre scorso ha cessato l'attività, da due mesi non ricevono l'assegno previsto dalla Cassa Integrazione in deroga. Intanto, durante una riunione dai nervi tesi a Palazzo delle Aquile, il sindaco di Palermo mette le mani avanti e riaccende le speranze. Non ho come fare, i soldi ve li deve dare la regione, ma dal 2 maggio vi faccio tornare al lavoro. Il riferimento è 10 milioni di euro che il governatore Crocetta aveva assicurato ai lavoratori per pagare gli arretrati, ma che finora non si sono concretizzati. La paura è che si trattasse solo di una promessa fatta da Palazzo d'Orleans ai fini elettorali. Intanto, il primo cittadino in un incontro con i sindacati ha tentato di rassicurare le parti, presentando loro il progetto dell'amministrazione comunale per il reintegro dei lavoratori, secondo il quale, a partire da maggio, i 1.850 dipendenti diventeranno lavoratori di utilità pubblica, con uno stipendio di 870 euro al mese più gli assegni familiari. Ma, dice il sindaco, si può tornare al lavoro solo se si trova l'accordo con le altre istituzioni. Grazie.